La Procura della Repubblica di Castrovillari ha sottoposto a sequestro beni e disponibilità finanziarie nei confronti di quattro soggetti, componenti dell'intero nucleo familiare e titolari di altrettante aziende agricole. Il provvedimento eseguito in data odierna costituisce l'esito di una complessa e articolata indagine di Polizia Economico-Finanziaria che ha permesso di accertare elementi probatori in ordine ad una indebita percezione di contributi agricoli erogati nel periodo 2012-2017 dall'Arcea Calabria per un importo complessivo di 331 mila euro e 700. L'attività investigativa ha consentito di accertare come gli stessi abbiano falsamente rappresentato all'ente pubblico la disponibilità di terreni altrui attraverso dichiarazioni di conduzione di fondo agricolo, contratti unilaterali e bilaterali, falsificando in quest'ultimo caso anche la firma dei reali ed ignari proprietari dei terreni. Le indagini condotte hanno consentito di rilevare inoltre come i componenti dell'intero nucleo familiare abbiano ripetuto le medesime modalità criminose indicando gli stessi terreni, i modelli di contratto e le dichiarazioni con identico contenuto volte a dimostrarne la disponibilità. Il giudice per le indagini preliminari accogliendo la richiesta della Procura e condividendo le ricostruzioni investigative operate dai finanzieri ha emesso un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente sino alla corrisponzione dell'importo complessivo appunto di 331.706 euro.